Benvenuti a questo nuovo game castato di Age of Empires 4. Oggi abbiamo a sud in giallo con gli aiubidi Lucifron, a nord in azzurro con il sultanato di Delhi Visti. La mappa è la classicissima Arabia Arida e siamo al primo game della prima semifinale del torneo Master of Realms dove questi due pesi massimi si giocano in una best of nine, mi pare, l'accesso alla finale. Per Lucifron c'è la scelta della Civ che al momento probabilmente è la più forte del gioco, gli aiubidi. Visti risponde con i Delhi che non saranno la più forte del gioco ma molto spesso sono la Civ con la winrate più alta su questo tipo di mappa e specificatamente proprio anche su Arabia Arida perché riescono a massare in feudale in una maniera disgustosa e difficile da fermare. Vediamo che Lucifron fa l'apertura standard, ricordiamo Castcastle aiubide molto forte e molto difficile da bloccare. Con lo start di bacche, start di bacche ovviamente anche per Bisti che ha già in coda le tech gratis del sultanato di Delhi. Ecco, sul sultanato di Delhi ultimamente abbiamo visto un certo aptic nel utilizzare magari lo studioso meno all'interno della moschea per ricercare velocemente le tech ma di metterlo subito anche dentro la scuderia per fare velocissimamente una massa di Gazi Rider disgustosa e questo può counterare molto bene il cammello che viene dato gratuitamente agli aiubidi. In teoria il Gazi Rider è counterato dal cammello che debuffa la cavalleria ma in pratica no perché come per il cavaliere leggero il Gazi Rider fa danno bonus al cammello quindi ne bastano due e il cammello si trova in difficoltà. Per cui ecco che Lucifron tira già la prima curveball, la prima incognita e passa con l'ala economica. Per cui ha previsto, ha immaginato presumibilmente che il cammello non sarebbe di grande utilità per raidare i Delhi o per difendersi e quindi sceglie di fare un'app che gli darà subito 3 abitanti. Sta anche raccogliendo un sacco di legna in più rispetto a un fast castle standard. Quindi avrà questi extra 3 abitanti subito, del cibo extra anche se non tanto quanto a castelli in base e intanto vediamo Visti che sale con la classica torre della vittoria, probabilmente metterà in coda un secondo prelato quindi penso che dopo pullerà gli abitanti quando ha raccolto 130 e di solito si tiene due preti e si va avanti così. Allora, allora, la cosa interessante è che quindi Lucifron perde l'abilità, la possibilità di andare a castelli e di avere immediatamente 8 abitanti gratuitamente che è una delle cose più forti del gioco però ne hanno un'altra veramente forte a castelli, gli aiubidi che è quella della cultura che gli darà 3 dervisci e questo può counterare abbastanza bene i deli perché solitamente quando arrivano a castelli hanno un gran quantitativo di preti anche perché non hanno niente altro su cui spendere oro le tech sono gratis e non hanno unità che costano gold in feudale quindi dopo li spendono tutti a fare studiosi quello che magari beccano dai secret site se li cappano e una volta che è arrivati ai castelli con tutti questi preti sul campo puliscono le reliche immediatamente ma se Lucifron va a castole e fa i dervisci le può contestare però sembra che Lucifron voglia comunque sta continuando a prendere un sacco di legna quindi vuole comunque rimanere a feudale e sta facendo cavalieri leggeri quindi ora io non ho fatto benissimo i numeri mentre intanto attiva anche la prima età dell'oro un po' meno forte di quella basse ma comunque 10% di bonus a tutti che quindi va a copiare il bonus che avrà i deli gratuitamente però Lucifron ha già fatto le tech ha già fatto ascia doppia ha fatto cariola sta facendo orticoltura visto ovviamente cariola ce l'ha già però le tech sue per il momento sono ancora un pelo indietro neanche tanto in realtà fra un minuto e qualcosa le avrà e avrà anche quella che non gli serve della miniera perché intanto il primo cavaliere di Lucifron va subito sulle bacche di Bisti che scauta ora quindi non se lo aspetta ecco però torna aveva tolto gli abitanti poi si è tornato e perde un abitante prova a curare col prete ma disattenzione di Bisti che perde un abitante forse colpito a freddo forse perché è la prima partita strano aveva mandato via gli abitanti poi li ha rimandati subito e c'era ancora mentre tanto anche Lucifron perde lo scout forse prova con i cavalieri leggeri ci sono i ghiazzi e se beccano questo scout è una brutta perca perché dopo tocca rifarlo eh sì mentre intanto con di nuovo i cavalieri costringe a spingere via Bisti che stavolta si è deciso e gli abitanti dice me li tengo sulle pecore e c'è anche la caserma per Lucifron che comunque alla fine penso che non sia un malaccio cavalieri leggeri contro gazzi perché comunque i gazzi hanno il danno bonus alle unità pesanti cosa che non sono i cavalieri leggeri hanno più HP più danno però attaccano un po' più lentamente quindi alla fine il DPS è più elevato ma non quanto farebbe il danno base e costa più risorsi 140 contro 120 quindi alla fine visto che comunque anche il tempo di produzione è un incrocio tra tra il cavaliere leggero e quello pesante i numeri potrebbero tornare per Lucifron a fare mentre intanto vediamo un raid di gazzi Lucifron non se ne accorge reazione un po' lenta però i gazzi non attaccano l'abitante giusto va giù comunque e siamo pari un abitante per parte perso ovviamente Lucifron ne ha di più perché ha fatto l'ala economica e Beastie ha già tessili ora però anche Lucifron sta facendo tessili perché tanto la partita sta diventando un raid di cavalli però iniziano a venire fuori anche le altre unit quindi Beastie ha messo lo studioso per pushare fuori picche a nastro le picche di Lucifron ci sono già e stanno venendo fuori anche gli arcieri quindi in termini di comp avanti Lucifron perché ha già anche gli arcieri pronti per counterare le picche di Beastie però Beastie quando aggiungerà avrà il vantaggio avrà un duplice vantaggio il vantaggio della torre della vittoria 15% di attacco mentre intanto vediamo Lucifron che prova a sniperare lo Scholar però ci sono già delle picche di Beastie qui però ha un sacco di unità e quindi tira fuori gli arcieri rivela gli arcieri Lucifron Beastie continua ad ingaggiare ma gli arcieri iniziano a pulire le picche ora c'è una superiorità numerica mentre intanto ci sono dei rei dovunque Beastie ha perso un abitante li ha persi anche Lucifron perché è stato attaccato nella woodline però nel frattempo questo fight è andato tutto a favore di Lucifron e sta addirittura perdendo lo studioso e questo è grave perdere lo studioso è grave perché ora gliene resta solo uno e deve interrompere vabbè chi se ne frega di questa dai la tech comunque Beastie ha raidato un abitante Lucifron ne ha raidati due e ha vinto un fight e ha ucciso uno studioso stavo per dire il vantaggio dei deli sarebbe di avere gli arcieri potenziati e di avere già gli upgrade fatti quindi gli upgrade c'è già il più uno alle frecce a breve 20 secondi e sta andando in coda anche tutti gli altri quindi doppio fabbro mentre invece no no niente anche Lucifron è già pronto Monaglia però qui viene sgamato ma ci sono due picche e gli abitanti provano a loro volta ma stanno arrivando altri gazzi quindi le picchie stanno inseguendo i gazzi ma arrivano altri gazzi e sono circondati è un panino di gazzi però una picca di qua una picca di là arriva qualche cavaliere sta muovendo le unità Lucifron che in questo momento ha un vantaggio militare notevole molto strana sta cosa dato che solitamente sono i deli che massano come degli animali però ragazzi molta gente dice che gli aiubidi hanno l'unica cosa sbroccata a fare militare intoeconomica ma non mi sembra proprio nel senso che comunque anche economica feudale ti dà un vantaggio subito e poi dopo puoi fare logistica che è forte per cui Lucifron addirittura sta per pushare in base visti a qualche upgrade sì a quelli che gli servono quindi più uno difensivo alle frecce ancora i gazzi che ritrovano gli abitanti stavolta le picche sono lontane ma arrivano comunque sta facendo un po' di idol ha perso l'abitante da qualche parte Lucifron ne lo sono perso però succedono cose veramente ovunque parte l'ingaggio picche di visti sui gazzi rider ecco la massa di arcieri del sultanato di Delhi però che sono più forti di quelli della della Iubide ma la front line a Iubide ha pulito totalmente mentre intanto visti continua con i gazzi ha pulito la front line del Delhi perché c'erano cinque gazzi qua quindi non erano qui nel fight per cui fight che è andato molto bene per Lucifron però a questo punto rimangono principalmente arcieri in entrambe le comp quindi questi quattro cavalieri leggeri se li deve giocare bene e se rimangono principalmente arcieri da entrambi le parti a questo punto Delhi con la maggiore velocità d'attacco è avvantaggiato ha attivato comunque la secondo livello di tech Lucifron quindi adesso farà le ricerche più velocemente ha già ricercato tutto quindi diciamo che gli servirà 6 quando arriverà a Castelli e vediamo che visti prova a spingerlo via però c'è una massa molto importante di arcieri anche per Lucifron 25 26 arcieri per Lucifron 25 arcieri per Bisti che quindi ha il vantaggio del range ma non ha più picche e ha 6 gazzi contro 6 picche e 6 cavalieri leggeri vuole forzare il fight Bisti perché effettivamente Lucifron ha più unità lo vedete qua in cima però non sono tutte qui arcieri di Bisti però che non hanno front line quindi questi cavalieri leggeri possono fare dei danni i gazzi si oppongono ma c'erano delle picche le picche sono state sniperate da Bisti però in tutto questo mentre arrivano altri gazzi ma vengono un po' presi in mezzo il problema è che gli arcieri di Bisti dovevano sniperare le picche mentre quelli di Lucifron attaccavano gli arcieri di Bisti però ora che non ci sono più le picche vedete che gli arcieri di Bisti stanno veramente facendo il disastro e Lucifron si ritira perché sa che in un arcieri contro arcieri a parità di numeri bello che ha tirato via lo scout sta cercando quantomeno di pulire i gazzi rider e con i gazzi rider puliti ha comunque ancora 6 horseman quindi Bisti si è spinto molto lontano dalla sua base i rinforzi sono lontanissimi per quanto siano forti gli arcieri dei deli con la torre della vittoria contro 6 cavalieri leggeri e gli arcieri aiubidi che li tallonano qui Bisti ha tirato via la sua armata andando a inseguire un po' troppo insiste però insiste insiste perché i suoi cavolo di arcieri hanno pulito i cavalieri leggeri e vuole continuare a fightare e pensavo che avesse esagerato e secondo me aveva esagerato perché ha perso un sacco di arcieri per nessun motivo ma alla fine è riuscito comunque a pulire tutto non niente picchie solo arcieri convenzionali arrivano altri cavalieri leggeri di lucifron perché tanto la base ormai è più vicina alla sua arcieri di Bistiche cercano però stavolta penso che verranno puliti stanno arrivando un paio di gazzi e altri arcieri quindi i gazzi spingono via i cavalieri leggeri ci sono tanti arcieri di aiubidi ma ecco ancora cavalieri leggeri è un back and forth ma Bistiche sta premendo lucifron nella nella sua base sta comunque facendo dei fight alla pari malgrado i rinforzi della iubide arrivino prima sta prendendo dei fight brutti in teoria è però grazie a questo bonus qui velocità d'attacco migliorata il 20% perfino questi bruttissimi fight stanno andando in parità in parità e ora le due civ stanno continuando a ammassare archi condizione che favorisce senz'altro i deli lucifron esce finalmente sulla mappa a prendere bacche e cervi abbastanza vicino alla base Bistiche è uscito su bacche e cervi ma più lontano quindi avrà dopo ancora a disposizione un pack di cervi vicino alla base sua scelta rischiosa ma che se non viene contestata potrebbe pagare in tutto questo Bistiche non ha avuto modo di cappare i luoghi sacri ed è ancora su un singolo prete perché non ha raccolto oro ora prova col secret side più lontano ci sta mandando lucifron un cavaliere leggero ma c'è già una picca due picche cavaliere leggeri di lucifron che provano a infilarsi per raidare Bistiche pensa a un muro poi ci ripensa cavalieri leggeri che cavaliere leggero che viene dentro questi gazi diciamo che questi gazi è come quando il mostro in un film horror apre la porta invece di trovarsi dietro la ragazzina spaventata di 12 anni si trova dietro Kratos e dice eh sì ok forse non è stata una grande idea esce a cappare uh sto scholar è esposto non se ne accorge lucifron perché non ha vision sto scholar per conto suo le picche sono in ritardo però ora Bistiche sta sta prendendo un po' di terreno anche se forse non ha prodotto degli abitanti perché è siamo a parità di di uccisioni in buona sostanza lucifron ne ha uccisioni in più ma con i tre abitanti extra degli abbassidi visto che entrambi hanno fatto tessili direi che Bistiche non ha fatto 5 6 abitanti Bistiche pusha con la sua massa però queste bacche ormai lucifron le ha prese più che altro questi cervi non erano più al sicuro ma sono finiti pure quelli per cui direi che il push comunque blocca lucifron dall'ultima fonte di cibo dei cervi che Bistiche sta prendendo quindi Bistiche sta prendendo tutte le fonti di cibo esterne e ora pusha in base al giocatore aiubide ora lucifron è in difficoltà perché non ha più cibo e dovrebbe fare una farm transition ma non ha più legna quindi non può né scendere né salire ma è riuscito ad andare a castelli quindi ha raccolto un sacco di oro e può mettere tutti gli upgrade in coda quindi vediamo se Bistiche prova a sfruttare il momento per spingere però gli upgrade aiubidi lo ricordiamo con la casa della saggezza a livello 2 vengono prodotti super veloci guardate qua come stanno andando praticamente arcieri diventeranno di terza anche il più 2 difensivo alle frecce per cui Bistiche lo sa sicuramente provano i cavalieri leggeri a tagliargli la strada sono già veterani sono veterani anche gli arcieri e qui si prepara il panino Bistiche comunque ha tutti e tre i luoghi sacri quindi può andare a castelli a sua volta senza raccogliere oro mentre intanto i gazirider hanno fatto me lo sono perso hanno fatto una stragia hanno ucciso 3-4 abitanti di Lucifer quindi Bistiche è di nuovo a meno 3 come abitanti sta provando a ritirarsi con i suoi arcieri convenzionali che non fanno più una sega agli cavalli veterani perché mentre intanto arriva il primo cammello ai cavalli veterani perché hanno il più 2 difensivo e hanno preso il più 1 dell'age up quindi hanno 5 di armor a distanza e gli arcieri di Bistiche fanno 6 gli fanno un danno un danno e stanno provando a tirarlo giù ma guardate quanto tempo ci metto no però intanto sono rimasti arcieri di terza contro arcieri di seconda contro la vittoria altro raid di Bisti che sta uccidendo abitanti a busso di Lucifron e gli arcieri di seconda di Delhi riescono a tenere testa gli arcieri di terza degli aiubidi con il più 2 difensivo perché tanto chi se ne frega fanno comunque 4 danni gli aiubidi ne fanno 7 però attaccano meno velocemente c'è un cammello c'è un cammello il cammello ha 6 di armor può veramente pulire tutto arriva una singola picca il cammello il cammello tanto è Gulam il cammello è andato giù quindi Lucifron continua ma ormai ha rimasto pochi arcieri ha ucciso un paio di abitanti nel frattempo però ci sono Gulam qua che pressano gli abitanti di Bisti Bisti ha ucciso altri abitanti siamo in parità come abitanti uccisi 11 contro 10 più o meno e continua a inseguire Bisti gli arcieri di Lucifron Lucifron è a 0 di cibo intanto in tutto questo è ancora 0 di cibo penso da un secolo e sembrava che ce l'avesse in pugno con questo push ma Bisti ora sta andando in terza ma ci sono i Gulam però sono solo un paio quindi secondo me i gazzi ce la fanno altro raid di Bisti gli arcieri di di Lucifron si nascondono e vengono ignorati perché ora Bisti deve difendere il landmark col prete che cura e i gazzi che attaccano perde un po' di abitanti siamo a 16 abitanti uccisi da Lucifron che trova questo regalo c'è la woodline di Bisti un abitante va giù due abitanti vanno giù Bisti se ne accorge tre abitanti vanno giù è andato a castelli ha evacuato gli abitanti ai cervi però li ha praticamente presi tutti Lucifron sta facendo adesso fattorie ma sono ancora nove non ha cibo Lucifron Bisti ha ancora questi cervi e ora mette in coda tutte le te ma ma saranno lente perché perché ha solo due scolar e in tutto questo Lucifron è riuscito a decappare due su tre luoghi sacri e ha fatto notevole danno economico a Bisti quindi Bisti ora è sotto di 15 abitanti e sta cercando di fare gli scolar per avere le te che non ha Lucifron ha tutte le te che gli servono ma è stato continua a non avere cibo è stato un secolo senza fare cibo non ha fatto i dervisci penso e quindi non ha raccolto le relic ha dovuto fare una moschea e e mandare il dervish ma guardiamo qui ovviamente c'è già uno studioso del sultanato di deli che la prende su anche se in realtà come abbiamo detto Bisti ha pochi studiosi quindi non è che mentre intanto vengono finalmente trovati gli arcieri di Lucifron il cammello trova lo studioso che quindi andrà giù e finalmente gli arcieri di Lucifron sono puliti però ora Bisti può recuperare gli abitanti perché si ci vorrà un po' 4 minuti per fare fortezza e villaggio perché non ha studiosi nelle moschee dai diventerà di meno se riesce pian piano intanto Lucifron raccoglie la prima relic anzi 2 Bisti raccoglie quella più vicina alla sua base e ha già qualche farm in più mentre invece Lucifron ha ancora quelle 9 che vedevamo prima ma perché per un sacco di tempo ha raccolto praticamente solo oro quindi se andiamo a vedere nel mercato il cibo costa 218 di oro e parte tipo a 130 mi pare quindi ha comprato cibo busso ha comprato talmente tanto cibo che al momento il cibo al mercato costa più dell'oro e quindi diciamo non molto efficiente come trade però si fa quello che si deve fare e c'è un mangano quindi arcieri gulam e un mangano che pushano nella base di Bisti che ha balestre e arcieri di terza è riuscito a fare questo upgrade quantomeno e ora pusha Lucifron e non so cosa ci possa fare Bisti contro questo mangano sta speed rushando un laboratorio da sede gli serve una spingarda ASAP mentre intanto Lucifron arrogante si infila in mezzo alla base di Bisti ma c'è un raid lancieri a cavallo raid su Lucifron non trova la eco perché non è qui è qua sotto la fortezza ed ecco che arrivano gli arcieri aiubidi che tirano giù qualche abitante di Bisti che non se ne accorge perché sta micrando i suoi lancieri a cavallo per raidare e quindi ha perso tanti abitanti di nuovo ne sta perdendo anche Lucifron ma meno sta micrando abbastanza bene nel frattempo però ha cappato i secret site quindi due secret site a Lucifron uno a Bisti 4 relica Lucifron una a Bisti 30 abitanti in più ormai 25 per Lucifron ha un mangano in base che sta tirando giù la moschea dell'ultima relica di Bisti e Bisti ha il TC assediato quindi ogni abitante che esce dal TC viene ucciso ma c'è la spingarda finalmente c'è la salvatrice spingarda e Lucifron è costretto a ritirarsi con il mangano il vantaggio militare comunque di di Lucifron oh il mangano c'è un mangano anche di Bisti e le truppe di Lucifron sono tutte incastrate lì non se ne è accorto il mangano fa un danno assurdo Lucifron ha il doppio dell'unità militare ma sono tutte incastrate lì e stanno venendo spinte via da Delhi sono tutte danneggiate tra l'altro non sono neanche tutti lì le militare neanche in base e Bisti si difende e Bisti si difende con questo mangano questa spingarda Lucifron ha bisogno anche lui di spingarda la sta producendo però tutte queste unit sono molto danneggiate sarebbe un vero peccato se questa Civ avesse una cosa che gli fa curare ad area il più velocemente eh già ma allora intanto però Fortezza Villaggio è online quindi Bisti che ha perso 30 abitanti può iniziare ad avere dei TC gratuiti quando fa le fortezze che costano meno di un TC perché il TC costa 750 la fortezza scontata del 20% da 900 costa 90 90 720 costa meno di un TC allora Lucifron in tutto questo ha massato Siege quindi 4 Spingard e 2 Mangani ha fatto la sua farm transition si è murato quindi sembrava già finita diverse volte sta partita in tutti i sensi prima fuori di Bisti poi di Lucifron poi di nuovo di Bisti però questo attacco doveva essere quello decisivo ma Bisti con i Mangani 2 Mangani contro 4 Spingarde sono riusciti comunque a fare un danno imperiale in tutto questo Bisti sta facendo un castello in faccia a Lucifron ora finalmente i Mangani di Lucifron vengono avanti ma fanno meno danno e le sue Spingarde sono state pulite ma ha perso la front line e quindi i Menet Arms di Bisti puliscono i Mangani puliranno le Spingarde gli arcieri di Lucifron se ne stanno disinteressando perché provavano a fermare gli abitanti di Bisti per fare il castello ma è troppo tardi e mentre ci sono altri raid in base a Bisti pur con la superiorità netta dell'assedio mentre intanto vediamo gli arcieri di Delhi che tirano giù anche l'assedio Bisti ha stravinto il fight è riuscito con due Mangani contro quattro Spingarde a tirare due botte enormi a Lucifron che non ha splittato gli arcieri e ora ha 36 unit in base a Lucifron che sta provando a fare un castello sulla sua eco ha ancora 20 abitanti di vantaggio ma non ha più esercito non ha più esercito e Bisti sta camperando la produzione la produzione ha ancora le waypoint che non sono state modificate sull'esercito di Bisti quindi uno ne esce e uno viene tirato giù e ora anche Lucifron sta perdendo abitanti a nastro perché questa fortezza è già piena ma qui ci sono altri 20 abitanti ce ne volevano due di fortezze siamo a pari con gli abitanti persi siamo a pari con gli abitanti fatti ma Bisti ha due fortezze che fanno abitanti anche se non li stanno facendo perché è impegnatissimo c'è un buco intanto nelle mura di Lucifron che è stato creato da Bisti che ha un mangano superstite qui Lucifron non ha più cibo di nuovo potrebbe spostare questi abitanti alle fattorie sta facendo due TC quindi questa partita potrebbe essere ancora lunga però deve rifare l'esercito intanto arcieri di Bisti che trovano la Woodline e Lucifron qui qui avrebbe perso altri 5-6 abitanti Bisti non l'avrebbe quittato come abbiamo visto in presenza però si dai con questo esercito in base questo sotto direi che finalmente la battita è stata chiusa non riesco a capire se si sono difesi troppo bene o se ci sono stati un po' di throw però pensavo che dovesse finire almeno due volte forse tre e invece non è finita ma poi è finita partita incredibile noi ci vediamo come sempre in un prossimo video